L'incontro di oggi con Armando è stato illuminante perché è stato come chiacchierare con un amico che si è sempre conosciuto, si è visto che ha avuto un'incredibile esperienza con i giovani, con l'approcciarsi con i giovani, è stato bellissimo perché tramite aneddoti divertenti si sono esplorati tutte le fasi del cinema in Italia, è stato incredibilmente bello e fa vedere quanto il cinema possa unire e possa veramente riuscire a formare delle generazioni che poi alla fine sono tutte insieme che hanno contribuito a rendere grande il cinema di oggi. L'incontro con Armando oggi è stato veramente emozionante anche per aver incontrato un'istituzione così importante nella storia del cinema, alla fine soprattutto italiano, e niente, chiaramente invoglia, a me invogliato personalmente, l'approfondire di più questa istituzione che è il Film Studios e mi piacerebbe approfondire anche magari un progetto, un ipotetico progetto che si potrebbe fare tutti insieme. È stato bello incontrare Armando perché è riuscito nel giro di un paio d'ore a comunicarci quella passione per la programmazione, ma soprattutto per le persone che sono passate per il Film Studio e non è una cosa che sanno fare tutti e quindi fondamentalmente ci ha inculcato un po' di coraggio in più per andare oltre quello che è il nostro ruolo di studenti e diventare appassionati anche alla programmazione. Quindi grazie Armando.